Ciao ragazzi, oggi vi porto tutte le novità fresche fresche sul Early Arches di Path of Exile 2. Uscirà il 6 dicembre e sarà free to play al lancio ufficiale, ma c'è un piccolo dettaglio per giocare in anticipo. Siete pronti per scoprire tutte le novità su questo gioco? Allora guardate il video fino in fondo. Innanzitutto c'è stata una sorpresa, noi pensavamo che il gioco usciva il 6 dicembre e tutti quanti potevamo giocarlo in maniera gratuita. Invece hanno fatto una differenza, ossia quella di farlo uscire in accesso anticipato, ma l'accesso anticipato prevede dei pacchetti. Ce ne sono di vari tipi, poi magari lo vedremo se siete interessati in un altro video. Il più economico costa 30 euro. Ovviamente dà, mi sembra, due chiavi di accesso per appunto il 6 dicembre e vi dà anche però 30 euro di valuta in game da spendere come uno meglio crede. Quindi il 6 dicembre 2024 ovviamente il gioco entrerà ufficialmente in accesso anticipato. Però dobbiamo stare ben attenti perché non si tratta di un piccolo assaggio, si parla proprio di un pacchetto enorme completo fin dall'inizio. Ora parliamo un po' della storia di questo gioco. La storia ci porta 20 anni dopo la scomparsa della corruzione. Un periodo di pace finito tragicamente per colpa del conte di Ham, sedotto da promesse di potere. Il nostro eroe si ritroverà sotto una dittatura spietata e partirà per un viaggio epico, alla ricerca del misterioso seme della corruzione. Dovremo combattere contro 100 boss unici, affrontare 600 mostri e esplorare 100 abitazioni diverse. La campagna definitiva sarà divisa in 6 atti ma in accesso anticipato potremo vivere i primi 3 per un totale di circa 25 ore di contenuti epici. Il gioco offre 6 classi iniziali, ma non lasciatevi ingannare, ognuna di esse può evolvere in 3 ascendenze uniche, cambiando radicalmente lo stile di gioco. Ecco alcune delle classi più affascinanti. Il monk, rapido e letale, usa arti marziali basate sul fulmine, ghiaccio e vento. Il warrior, lento ma inarrestabile, maestro di mazza e scudo con abilità devastanti. Il ranger, scatta, salta e tira frecce anche in movimento, una vera rivoluzione per il genere. Il witch evoca servitori non morti e scatena magie oscure. Il mercenario, che con la sua balestra personalizzabile, sembra uscito da un twin stick shooter. Infine il sorcerer, padrone degli elementi e maestra degli incantivi devastanti. Ogni classe si arricchisce di nuove skill jam, ora legate al personaggio e non più all'equipaggiamento, permettendo build uniche e cross class. Ieri sera hanno fatto una presentazione di tutto quello che concerne il gioco, molto molto lunga, credo che sia durata la live circa due ore, quindi adesso io cercherò di fare un bel riassunto delle cose principali che hanno detto. Dunque, allora, ci sono anche delle novità per quanto riguarda il gameplay, ora le vediamo insieme. Dunque, come prima cosa, diciamo il movimento del nostro personaggio, che potrà essere effettuato tramite i tasti, ovviamente su PC, della WASD per un controllo più fluido. Poi, un nuovo sistema di schivata. Ci saranno introdotte poi anche delle fiaschette di salute e mana, che saranno utilizzabili fino a sette volte prima di andarsi a ricaricare. E poi, delle specializzazioni delle armi. Un'altra cosa che hanno fatto vedere è un enorme albero delle abilità. Diciamo che ci sono da andare a distribuire circa 100 punti di abilità. Credo uno per ogni livello. Quindi, questo albero sembra enorme, ma in realtà è diviso poi a metà per build fisiche e l'altra a metà per build magiche. Però comunque, magari riusciremo a capire meglio quando avremo davanti il gioco, in modo che io possa anche poi spiegarvi meglio questa cosa nel dettaglio. Diciamo che una grossa novità è che le skill non sono più legate direttamente ai socket degli oggetti. Ora c'è un albero a parte per tutte le abilità, semplificando enormemente il sistema. Potrete personalizzare ogni abilità con gemme di supporto, come ho detto prima. Dunque, quindi ci sarà un sistema che promette una profondità assurda e una verità infinita di build. Quindi questa è la cosa principale, diciamo, di questo gioco. Che potremo veramente andare a fare tantissime build che saranno efficienti. Almeno così ci stanno dicendo. Poi vedremo se poi anche questa cosa sarà realistica. Hanno infine anche parlato del endgame, che è stato completamente rinnovato. L'atlas sarà infinito e generato proceduralmente. Ogni nodo della mappa avrà le sue caratteristiche e potrete modificarlo per ottenere drop migliori. Dunque ragazzi, se andiamo a guardare un po' i pacchetti per curiosità che ci sono, che hanno messo di questo gioco. Se vogliamo andare ad accedere al yearly access, bisogna sborsare fino a 480 dollari per avere un pacchetto a vita. Sono veramente tantissimi soldi. Bene, non l'ho capito, poi magari farò un altro video per spiegarvi i vari pacchetti. In cosa consistono quindi ognuno, che differenze hanno. Però questo pacchetto da 480 dollari ci dà anche poi, mi sembra, una maglietta, una felpa e addirittura un libro. Però poi c'è anche il pacchetto sostenitore da 30 dollari, che darà l'accesso anticipato e altri piccoli bonus. Poi, appunto, come dicevo, lo vedremo magari in un video a parte. Ovviamente questa novità ha fatto un po' storcere il naso a molte persone. E già si incomincia a parlare del solito pay to win. Anche di questa cosa poi magari la approfondiremo in altri video. Quindi, tornando a parlare dell'accesso anticipato, potremo andare a giocare la campagna. Composta, come vi ho detto prima, da tre atti. Però avremo da poter giocare due difficoltà, ossia la difficoltà normale e quella crudele. Dunque ragazzi, queste sono le novità principali che sono emerse dalla live di ieri sera. Ovviamente stamattina, molto presto, sono riuscita un po' a mettere insieme le principali notizie. Poi, se volete degli approfondimenti, come vi dicevo prima, magari farò un video dove parlerò più nello specifico dei pacchetti che sono stati introdotti. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete interessati a questo gioco e se volete ulteriori approfondimenti. Oppure, fatemi semplicemente sapere cosa ne pensate. Come sempre vi ringrazio della visione, vi chiedo di condividere questo video se ne avete voglia e naturalmente se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al canale. Ciao a tutti e alla prossima! Grazie per la visione!